Ma buongiorno ragazzi, benvenuti, benvenuti. Oggi è un giorno speciale per me, perché oggi, domenica 31 maggio, sono riuscito finalmente a entrare nel mio studio televisivo. Guardate quanto è bello e guardate quanto è grande e vorrei cogliere l'occasione di ringraziare Jessica Moore per la direttrice dei lavori per avermi creato questa bellezza. Cosa succederà da oggi in poi? Succederà che ci saranno più contenuti, più video, nuove rubriche, nuovi ospiti. Prossimamente inizierà anche il nostro telegiornale e altre molte sorprese. Quindi non perdete queste sorprese e come fare per non perderle? Basta iscriversi al mio canale YouTube, questo, Piros. E condividete i miei video, commentate che mi fa sempre piacere, ma soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun mio nuovo video. Io con questo vi saluto, spero che con questa nuova tecnologia vi piaccia, vi abbraccio e ci vediamo prestissimo con il nuovo canale di Piros. Un bacione, ciao ragazzi!